La modella Francesca Sofia Novello ha incantato tutti nel febbraio scorso grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus Lei ha messo in mostra tutta la sua bellezza ed il suo fascino alla kermesse musicale più famosa del nostro paese La sua sensualità è ancora più evidente sui social network. Infatti poco fa ha deciso di pubblicare un meraviglioso scatto che ha entusiasmato i suoi fan La dose e metà di Valentino Rossi ha lasciato a bocca aperta.Sul suo profilo Instagram ha oltre 290.000 seguaci, i quali hanno potuto vedere con grande gioia la sua ultima attività L'immagine proposta al popolo della rete ha causato quasi degli spegnimenti Il suo corpo è infatti praticamente perfetto, con curve mozzafiato che tolgono il respiro Facilmente immaginabile quindi la reazione dei suoi ammiratori, che hanno regalato moltissimi mi piace e scritto decine e decine di messaggi sotto la sua spettacolare istantanea Punto nella foto in questione si è ripresa con un mini bikini pieno di colori I suoi capelli sono legati, ma ciò che è stato apprezzato maggiormente sono state soprattutto le sue forme strizzate nel costume Si può notare il suo fisico impeccabile e si intravede il suo favoloso deculte Il suo sguardo rende ancora più sexy e il post Tenuto conto dei risultati raggiunti, il suo scatto bollente ha ottenuto ciò che lei presumibilmente desiderava Andiamo a vedere quali sono stati i commenti principali. Ai like conquistati dalla giovane hanno superato le 23 300 unità Mentre questi sono stati i messaggi pieni di complimenti scritti dai follower Sei bellissima, sempre stupenda, selvaggia e spettacolare Beato Valentino Rossi, sei uno schianto, sei pazzesca, magnifica, la quarantena quella bella Altri ancora, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, sei una bomba francesca, ipnotica, sei la perfezione, da urlo, come Pocahontas Novello, classe 1994, è soprannominata la Brook Shields italiana per via degli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance che ricordano molto la star ai tempi di Lagana Brut Lei è stata una ex ombrellina. Proprio sulle piste del MotoGP ha incontrato Valentino Rossi, con cui si è subito creata una forte intesa anche se a lungo tenuta segretissima Tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi tutto sarebbe iniziato a fine 2017 Grazie a tutti